Le ultime ore di calciomercato hanno riservato importanti movimenti per le formazioni pugliesi della Lega Pro. Mercato più che positivo per la Fidelisandria. Le cessioni di Bisoli al Brescia, Bollino e Stendardo al Taranto, Devena al Melfi, Strambelli al Matera, Grandolfo al Bassano e Cappellini al Forlì più le partenze di quei calciatori che hanno avuto pochissimo spazio la scorsa stagione, sono stati deniamente sostituiti con i difensori Rada, Curcio, Allegrini, Colella e Annoni. A centrocampo Valle con gli esterni Minicucci, Starita, Volpicelli, i fantasisti Mancino e Berardino, gli attaccanti Fall, Cruz e Kraliz. Il colpo messo a segno nelle ultime ore porta il nome di Fabio Tito, terzino sinistro proveniente dal Foggia, che va a completare il reparto difensivo. Da segnalare inoltre le importanti cessioni di Cianci al Sassuolo e Tartaglia al Novara, ma entrambi resteranno ad Andria sino al termine della stagione. Si è chiuso con il botto il calciomercato del Foggia con l'arrivo dell'esperto e prolifico attaccante Fabio Mazzeo del Benevento. Un calciomercato che ha visto nuovamente protagonista la società del presidente Fares con gli arrivi di Guarna in Porta, di difensori Martinelli, Rubine ed Emperur, del centrocampista Agazzi, degli attaccanti Padovan, Letizia e appunto Mazzeo. Acquisti che fanno comunque da contraltare alle importanti partenze di Narciso, Tito, Agostinone, Arcidiacono, Gigliotti, Viola e Iemmello. Un mercato comunque positivo per le due formazioni che adesso vogliono trovare i dovuti riscontri sul campo.